Sarà in via Lombardia e non più in strada dei cacciatori il nuovo drive tamponi di Pesaro. Sorgerà qui a fianco della sede della protezione civile il punto tamponi che permetterà ai cittadini di arrivare in macchina, abbassare il finestrino, sottoporsi al test sanitario e poi ripartire. Una decisione presa dal comune e dall'Asur a causa della preoccupante ascesa dei contagi che in vista dell'inverno inevitabilmente continueranno a salire. La struttura di Villa Fastigi, chiusa ad agosto per motivi legati alla bassa incidenza di positività e ai pochi tamponi effettuati, non è stata confermata per ragioni prettamente economiche, visto che le attrezzature utilizzate dovevano essere noleggiate. Più comodità dunque grazie agli spazi più confortevoli per quanto riguarda il container che sorgerà in via Lombardia nel periodo tra fine novembre e inizio dicembre, ma anche per la prossimità alla sede della protezione civile. Proprio ai microfoni di Rossini TV, il consigliere regionale Andrea Biancani aveva sollecitato il comune e l'Asur ad intervenire per fornire ai cittadini pesaresi, a quelli limitrofi, di avere maggiore comodità nell'effettuare un test molecolare, visto che da agosto le uniche strutture rimaste aperte sono attualmente quelle di Fano e Urbino. Richiesta di fatto accolta, ma con l'unica differenza di un cambio di location.